Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Per quale squadra tifa? Io sono interista dalla nascita, da generazioni, insomma tutta la mia famiglia è interista, sia da parte di mio padre che da parte di mia mamma. E cosa prevede per questo campionato per l'Inter? Per l'Inter credo che sarà dura, io spero che riesca ad aggiungere la famosa seconda stellina, vediamo cosa succede, specialmente in Champions League, in chiave Champions, che speriamo di vincere per la quarta volta. Squadra tifi? Juve. Senti, chi vince quest'anno lo scudetto? La Juve. Chi è il giocatore più forte? Vlaovic. Previsioni sul prossimo campionato di Serie A? Roma, Di Mourinho. E Di Bala? E Di Bala. E le altre? Inter, Juve. Nulla, niente. Tifoso del Milan, visto scudetto possibile? Speriamo, comunque ci contiamo. Le favorite? Le favorite? Penso le solite, Inter, Juve e Milan, chiaramente. Tifoso del? Napoli. Ce la facciamo vincere questo scudetto a Napoli? Dai, speriamo. Le altre squadre, le favorite del campionato, quali possono essere? Penso l'Inter, dai, ho il marito tifoso dell'Inter, quindi se non vince il Napoli, dai, speriamo nell'Inter. Andiamo in famiglia a cercare di festeggiare comunque in un modo o nell'altro. Esatto, esatto. Tifosa del? Juve. E riesce la squadra a rivincere lo scudetto? Penso proprio di sì, quest'anno lo vinceremo al 100%. La squadra c'è, certo, tutto può accadere, però io penso che siamo i favoriti. Si fida di Allegri? Sì, mi voglio fidare. Che squadra tifi? Forza Juve! Chi vincerà il prossimo campionato di Serie A? Allora, io decido che vince l'Inter. Come fa a deciderlo? È perché mi piace con i giocatori che hanno acquistati. Juve? No, 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 non ne parliamo. Il bianco e nero non mi è mai piaciuta, neanche da piccola.